Allora ragazzi, come potete notare, la Puglia è una regione bagnata sia dal mare Adriatico che dal Mar Ionio. Ma maestra, quella è una parete vuota. Provate ad immaginare. Ragazzi, non ci sono soldi. I fondi sono stati usati tutti per comprarvi gli emetti. Non vorrete mica mettere in pentaglio le vostre vite per questa scuola. Grazie a tutti.